Io direi che possiamo iniziare, siamo qui per il quarto appuntamento del ciclo Milano nella storia, per questo do la parola a Ivano Granata che introdurrai tutto. Io semplicemente ho chiesto questa volta di poter dire due parole iniziali perché penso che sia mio dovere in questo momento ricordare il nostro carissimo amico, il presidente onorario della Casa della Cultura che è scomparso ieri sera. Fuglio Papi, penso che molti di voi, tutti voi lo conoscesse, è stata una grandissima figura di intellettuale, insigne, filosofo, allievo di Banfi, quindi era considerato l'ultimo esponente di quella famosa scuola di Milano che ha lasciato un'impronta così profonda nella vita culturale milanese italiana, poi il punto di raccordo fra la ricerca e filosofica italiana e la grande cultura europea. Lui era l'ultimo esponente di quella scuola, un esponente che è stato protagonista della vita culturale fino a pochissimo tempo fa. Come filosofo, poi lo ricorderemo meglio più avanti, ma io non posso non ricordare i suoi lavori straordinari su Giordano Bruno, su Hegel, l'ultimo suo lavoro importantissimo su Marx, insomma davvero un uomo che ha dato un grande contributo e soprattutto un uomo che ha legato la sua vita in un modo incredibile alla Casa della Cultura. Mi permetto di dire nessun altro come lui. Lui solleva ricordare, in solito in modo scherzoso, che scopersse la Casa della Cultura nel 49, era un ragazzetto ancora, venne in Casa della Cultura e si è accompagnato dal figlio di Vittorini e assieme arrivarono in Casa della Cultura e lui da allora non si staccò più, fino a diventarne uno dei protagonisti assoluti, è diventato per tanti anni referente del dibattito filosofico, come voi sapete qui in Casa della Cultura la filosofia, io uso sempre di dire scherzosamente un po' il core business della nostra attività. Lui l'ha interpretata fino in fondo, insomma, per 35 anni ha gestito un seminario di filosofia che si rivolge ogni autunno in Casa della Cultura, che era diventato un punto di riferimento fondamentale al dibattito filosofico italiano, sape quindi il peso. Talmente importante, noi stiamo lavorando per recuperare tutte le lezioni e digitalizzarle e mettere tutte sul nostro canale YouTube, moltissime le abbiamo già recuperate, chi vuole può andare a ritrovarle, sono francamente un contributo straordinario, un'immersione nel dibattito filosofico affascinante, che potete trovare senza nessuna difficoltà sul nostro canale YouTube. Ma il tutto questo per dire semplicemente che noi abbiamo perso un grande maestro e fra di noi alcuni, fra di noi, e io posso dire francamente, ho perso una persona a cui ero legatissimo, un grandissimo amico a cui ho un debito di riconoscenza enorme, quindi era mio dovere dirlo, ricordarlo a tutti. Non voglio disubbarvi oltre, per questo adesso do la parola a Ivano Canale. Dunque, sì, buonasera a tutti intanto e benvenuti. Quanto pare stasera è una sera un po' particolare da un certo punto di vista. Io mi limiterò, mi scuso innanzitutto con Cuzzi e vi spiego poi il perché. Mi sarebbe piaciuto molto sentire fino in fondo la lezione, la conferenza, l'abitudine a dire certi termini è di un certo genere. Purtroppo però alle sette ho la riunione condominiale dove se non si arriva a botte si andrà molto vicini. Quindi a questo punto tra un po' me ne andrò. Ripeto, mi dispiace perché devo dire che conosco abbastanza bene quello che ha detto Cuzzi, quello che dirà Cuzzi qui, avendo presentato poi il suo libro di cui poi vi parlerà a Roma. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, come dicevo, è evidentemente oggi un lupetì del tutto particolare, perché anche io devo ricordare qualcuno. Non so se qualcuno di voi ha visto, sul Corriere di ieri c'era un breve ricordo, è morto Brunello Vigezzi. Brunello Vigezzi è stato per anni il docente di storia moderna dell'Università degli Studi di Milano, per la precisione dal 71 fino a quando è andato in pensione. Però in realtà lui era piazzato a moderna, diciamo così, ma è stato a mio avviso uno dei più grandi contemporaneisti della seconda metà del Novecento. Io mi laureai con lui in anni in cui non cito per carità di patria e credo tutto sommato di poter dire e mi onoro di questo fatto di essere stato un suo allievo. Lo sono stato fino in fondo, con un rapporto peraltro molto strano. Fu Vigezzi a introdurmi all'Università, poi dopo i miei rapporti con Vigezzi sul piano, diciamo così, scientifico si staccarono abbastanza rapidamente, perché lui stesso poi, a quell'epoca insegnava ancora la storia delle dottrine politiche, lui stesso poi mi indicò al suo successore, che era un altro personaggio di grandissima caratura, cioè Giorgio Galli, il politologo, e in realtà quindi la mia carriera poi si è sviluppata all'interno, in parte del rapporto con Giorgio Galli, in parte del rapporto con i contemporaneisti, visto che io in realtà facevo contemporanei. Però lui è di questo anche, è una cosa che mi sento molto onorato, mi ha sempre considerato un suo allievo, su questo non c'è il minimo dubbio. Quattro, a mio avviso, sono le opere principali di Vigezzi. Lascio in fondo quella che in realtà cronologicamente è stata scritta prima, ma secondo me è la cosa migliore in assoluto. Dunque, il suo grande libro è Giolitti e Turati, un incontro mancato, dove si mette in rilievo il rapporto del socialismo dall'inizio del secolo con Giolitti, di un incontro che avrebbe dovuto essere a livello governativo e che in realtà non ci fu mai. E lui spiega benissimo tutte le motivazioni di questo, facendo in pratica capire che se la storia che non si fa nessuno in sé, ma se Giolitti e Turati fossero riusciti a combinare, probabilmente la storia d'Italia sarebbe stata diversa. Altri suoi due libri importanti sono sempre sullo stesso argomento, da Giolitti a Salandra, cioè sull'Italia liberale dall'inizio secolo fino allo scoppio della prima guerra mondiale, e poi il libro, il partito socialista tra massimalismo, tra riformismo e rivoluzione. Il suo libro però più importante in assoluto è l'Italia di fronte alla prima guerra mondiale, l'Italia neutrale, volume che fu uno dei primi lavori in assoluto di Vigezzi. Vigezzi in realtà a un certo momento visse una borsa di studio, andò all'Istituto di Studi Storici a Napoli, dove trovò Federico Chabot. E quindi sotto la guida di Chabot arrivò a scrivere poi questo libro, che è un libro di 850 pagine, se ben mi ricordo. Ed è uno dei libri onestamente più straordinari che io abbia mai letto. In assoluto, è una storia d'Italia da un certo punto di vista, è una storia dei partiti politici da un altro punto di vista, è un'analisi psicologica, se mi passate il termine, di molti dei personaggi che sono citati dai socialisti, passando per Mussolini e passando a Lant. Il Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Milano lo ha ripubblicato alcuni anni fa, per chi eventualmente fosse interessato è disponibile e io devo dire di aver avuto il grande onore di presentarlo questo libro. Non so, per me è oggi un giorno molto triste, è come se una parte di me stesso in fondo se ne fosse andata. Grande onore a Vigezzi, probabilmente non avrebbe gradito quello che sto dicendo perché ha lasciato di non fare il funerale e di non fare soprattutto i necrologi, però un ricordo a questo punto mi sembrava doveroso farlo. Grazie dell'attenzione, adesso ritorniamo invece all'argomento di stasera che è un argomento importantissimo, visto che riguarda Milano negli anni della Repubblica Sociale, i famosi 600 giorni che anche qui da un certo punto di vista cambiarono poi tutto quello che sarebbe stato, che era la Milano precedente e che sarebbe stata poi la Milano del dopoguerra. Marco Cuzzi non ho bisogno di presentarlo perché in realtà io sono il coordinatore ma è lui il responsabile di questo ciclo che teniamo qui. Insegna storia contemporanea all'Università degli Studi di Milano, si è occupato di fascismo e di tutta un'altra serie di problematiche, ha scritto un sacco di cose, dovendo essere sincero, ma non sto a citarle e soprattutto per chi di voi fosse interessato dopo la lezione di stasera, perché la lezione di stasera sarà una specie di stimolo verso un approfondimento dell'argomento, lui ha scritto questo libro che è di una leggibilità straordinaria, se devo essere sincero, visto che provenendo dal mondo accademico so come scriviamo noi storici, è di una leggibilità straordinaria e che quindi se qualcuno avesse intenzione di approfondire l'argomento, io devo dire che probabilmente c'è proprio tutto riguardo alla Milano dei 600 giorni. Adesso lui ve ne darà una sintesi, mi raccomando e dai una bella sintesi e spero poi, ripeto io non ci sarò, ma spero che ci sia un dibattito, non dico acceso, ma se non altro di un certo interesse. Grazie. Grazie mille, grazie, grazie, ringrazio Felicio Capelli, ringrazio Ivano Granata anche per le belle parole che mi ha dedicato, ringrazio tutti voi e saluto il mio direttore di Partito di Tutti Storici, Gamberini e mi associo devo dire per ogni istante ai due ricordi, ai due perché Fulvio Papi io l'avevo conosciuto quando venivo anche qui qualche volta a ascoltare convegne e iniziativa, ma la cosa più curiosa è che settimana prossima io partecipo a un convegno con il Dipartimento di Filosofia dove parlerò di Mario Dalprà socialista e Mario Dalprà è stato, anzi Papi è stato l'assistente di Dalprà se non sbaglio, o assistente di Bampi, però poi aveva lavorato anche con Dalprà, sì assistente di Bampi perché anche Dalprà erano assistenti entrambi di Antonio Bampi e poi ecco e quindi insomma spero sarà sicuramente il momento in cui i colleghi di Filosofia celebreranno un personaggio come Papi, l'altro lo ricordo ovviamente Bruno Lovigezzi invece ho avuto l'onore di conoscerlo più personalmente anche se in tarda età e devo dire che davvero queste perdite sono perdite incommensurabili al di là di ogni aspetto anche umano c'è un aspetto scientifico insomma a mio parere quando se ne vanno questi personaggi si rimane un po' più ignoranti io devo dire che siamo un pochino meno, abbiamo meno nomi tutelati no scusa, no per un attimo solo, cioè la mia metodologia della ricerca storica, la mia attenzione per le fonti, la mia attenzione per il particolare ma nello stesso tempo per il generale dipendono tutto dall'insegnamento di Ligezzi quindi infatti personaggi così effettivamente hanno contribuito a fare, è un gioco di parole ma hanno contribuito a fare la storia, poi mi taccio. No ma non è che ci diventiamo più, diciamo che si perde un pezzo di cultura sempre, un po' come quando si diceva quando muore una persona anziana è come che si scendiasse un'intera biblioteca, ecco sicuramente questo vale per Ligezzi e appunto però anche in nome di questi grandi storici nel mio piccolo cercherò di, storici e filosofi cercherò di essere il più possibile chiaro affrontando un tema che non è un tema molto semplice ma perché? Perché è un tema in realtà che in parte è stato molto perlustrato ma in parte forse non c'è ancora stata quella divina ricapitolazione necessaria per inquadrare quella che fosse stata la capitale non solo del fascismo in stato nascente ma anche del fascismo nella sua fase finale e nella sua nemesi che è Milano perché la vera capitale della Repubblica Sociale Italiana è e resta Milano. Non lo è soltanto perché per circa una settimana lo diventa effettivamente nel momento stesso in cui il capo di Stato si trasferisce in una città ancorché uno Stato a sovranità limitata sia a livello politico sia a livello territoriale come Fussalò, beh in quel momento il luogo dove si trasferisce il capo dello Stato diventa automaticamente capitale e Mussolini dal 18 aprile trasferendosi e di fatto sancisce ciò che i tedeschi fino a quel momento hanno evitato di dargli, di concedergli cioè appunto la titolarità di Milano come capitale di questa effimera Repubblica. Ma insomma lo è in realtà per tutti i quasi 600 giorni di vita di questo Stato. Allora per Stato effimero ma non da sottovalutare dal punto di vista storiografico, dal punto di vista del ruolo che ha avuto in quei mesi e direi anche dal punto di vista della mitopoietica che una certa parte politica ha fatto di Salò perché la Repubblica Sociale è ancora più del ventennio e è innervata in una certa area politica di essere ma destro ovviamente molto di più di quanto si pensi e appunto molto più del ventennio stesso. Dunque Milano e Salò, io non parlerò della Repubblica Sociale ma però di Milano. Quindi vediamo subito come poter raccontare questa storia. Anzitutto elencando un po' i personaggi che appaiono sul proscenio milanese in quei 600 giorni. I primi ovviamente cerchiamo di individuare circa 6 o 7 categorie di personaggi. I primi sono sicuramente i fascisti e ovvio. I fascisti, qua mi riallaccio proprio agli studi di Ivano, i fascisti potremmo già definirli con un termine in parte, una parte di questi fascisti, i giampaolisti o meglio i neo giampaolisti per usare un termine più preciso. Tanto per spiegarci Mario Giampaoli è stato uno dei fondatori dei fasci di combattimento nel 19, è stato segretario del fascio a Milano, è stato un dirigente di primo piano, uomo discusso, chiacchierato, che ha avuto una parabola anche una parabola discendente in una fase successiva all'instaurazione del regime che si è caratterizzato non solo per un atteggiamento a dir poco disinvolto dal punto di vista, come dire, della legalità ma anche e soprattutto dal punto di vista della violenza, dell'estremismo, del radicalismo con cui lui affrontò non solo la fase squadristica e fin lì, come dire, tutti d'accordo, il fascismo era un fenomeno che faceva della violenza appunto una cifra di riferimento ben nota negli anni che vanno dal 19 al 22, lo sappiamo, abbiamo parlato eccetera. Ma dopo, cioè quando Mussolini decide di normalizzare, decide di mantenere non solo a livello nazionale una, come dire, una grande, un controllo sulla sulla stessa forza delle squadre d'azione trasformandoli in milizia volontaria, ma nel caso specifico milanese sostanzialmente si sforza di individuale, in quel quadro invece moderato di stampo in parte aristocratico, in parte conservatore, gli elementi di riferimento, i podestà di Milano per lo più sono stati i podestà provenienti dalle vecchie famiglie conservatrici, precedenti addirittura al fascismo, insomma i nomi sono ben noti. Ciò nonostante Giampaoli mantiene una sua posizione radicale, estremista, con lui tanti altri che mantengono un atteggiamento sicuramente pernicioso anche nei confronti di un regime che viceversa sta facendo di tutto per apparentemente normalizzare la situazione e poi ovviamente anche per tranquillizzare un certo ceto moderato che nella città di Milano voleva soprattutto ritornare a far funzionare la solita macchina economica della città. Lo squadrista insomma serviva quando era necessario rompere lo sciopero, attaccare le camere del lavoro, aggredire l'oppositore eccetera. Ora doveva essere ricollocato in una posizione di non nuova. Da questo punto di vista non solo il Giampaoli ma anche altri rappresentano ancora più di lui perché Giampaoli in realtà muore e arriva alla Repubblica Sociale ma è malatissimo e quindi non vi partecipa ma un suo scherano, un suo epigono sarà protagonista della fase più violenta della RSI a Milano che è ovviamente Francesco Franco Colombo, ex sindacalista rivoluzionario, più noto, non è certo un lettore di Sorel, è più noto per menare le mani a portati cinese e lui diventerà uno squadrista alla Giampaoli e riemergerà dopo essere anche finito in galera, dopo aver avuto problemi addirittura col regime, riemergerà come esponente del radicalismo fascista nel periodo di Salò diventando comandante della legione autonoma Ettore Muti. Un altro protagonista è naturalmente il fascista repressore, anche questo presente, non solo questi estremisti che non sono solo rappresentati dalla Muti, è un fascismo violento, squadrista, squadre d'azione che si riformano in tutta la città sin dal settembre del 43 e che si muovono spesso con atteggiamenti di veri e propri gruppi di taglieggiatori nei confronti della popolazione cittadina, almeno fino all'ottobre e novembre del 43 abbiamo a che fare con un fascio molto disinvolto che ricorda quello del 19. Oltre a loro dicevi i repressori, cioè le forze che diventeranno protagoniste della guerra civile che si svilupperà in città. I questori, i comandanti della GNR e soprattutto dell'ufficio politico investigativo che sarà l'ufficio che più di tutti compirà atti esecrabili contro la resistenza e contro i sospetti resistenti. Le tante polizie, la polizia repubblicana, a un certo punto la questura dovrà occuparsi di due, avrà a disposizione due battaglioni di polizia repubblicana, la Caruso, diciamo il battaglione più vicino alla classica polizia pre-43 e poi la stessa Muti che verrà trasformata in organismo di polizia giudiziaria con tutto quello che ne consegue, quando il controllore non è più controllabile, potete immaginare cosa accade. E poi ancora le brigate nere, nascerà una brigata nera a Milano, l'Aldoresega e poi ancora la Decima Masco, il suo ufficio politico che avrà sede in piazza Fiume, cioè in piazza della Repubblica. Il battaglione Azzurro, ovvero sia una vera e propria milizia antipartigiana dell'aeronautica repubblicana con sede in piazzale Novelli, allora piazza Italo Balbo, le SS italiane che avranno anche loro un ufficio politico e poi ancora le ben note e tragiche bande, la banda Koch a Villa Triste, in Villa Fossati oppure la Finizio, la banda Bossi, Ferdinando Bossi, figura poco nota, terribile figura di persecutore di ebrei e di resistenti, morto serenamente a Luino come proprietario di un concessionario d'auto, è stato assolto da tutte le accuse, ha sulla coscienza parecchie centinaia di persone, ha partecipato direttamente a torture. La banda Pennacchio e bande ancora meno note, circa una quarantina di gruppi, di sedicenti forze di polizia speciali che si muovono l'una in concorrenza con l'altra. Milano è riconosciuta dagli storici della Repubblica, che si occupano di Repubblica Sociale, come la città più caotica dal punto di vista del controllo del territorio dell'ordine pubblico. Non esiste un potere centrale, i questori impazziscono, chiedono in tutti i modi al Ministero degli Interni interventi, i prefetti cioè i capi della provincia tentano di fare la stessa cosa, ma in realtà come è ben noto Salò è una confederazione di gerarchi che si muovono autonomamente con i loro gruppi armati e ogni ministro, ogni gerarca ha la sua polizia di riferimento. Buffarini Guidi avrà la Muti, la Gestapo avrà la Coq direttamente, ma ci sarà anche, che ne so io, Pavolini con le sue brigate nere, Ricci con la sua ufficio politico investigativo, cioè con la GNR, capite? Ogni esponente di primo piano di Salò ha a Milano la sua declinazione militare e di polizia politica e giudiziaria. Poi abbiamo gli amministratori come Piero Parini, qua bisogna riconoscere che è esistita anche una Milano fascista laica, mi verrebbe da dire, cioè Parini è un fascista, sarà prima Fodestapo il capo della provincia, che lo si è fuori discussione, è un fascista della prima ora, sebbene non abbia mai fatto né squadrismo ne marcia su Roma, è arrivato dopo, viene dal nazionalismo. Lui è sostanzialmente un amministratore e lo è, è stato un diplomatico, è stato prima segretario dei fasci italiani all'estero, poi è stato anche governatore dell'isola Ionia a un certo punto nella fase del primo anno della guerra. Diventa prima Podestà e poi capo della provincia e tenta un esperimento, tenta di consegnare alla popolazione milanese un'immagine di uno stato funzionante, efficiente a livello amministrativo. L'obiettivo di Parini è dimostrare efficienza ma soprattutto legittimità. Non si può dire che gli atteggiamenti di Parini nascano da una particolare propensione umanitaria nei confronti di qualcuno o di qualcosa, sebbene bisogna riconoscere che abbia aiutato molti ebrei attraverso quando era Podestà, si ha fatto consegnare dagli uffici a molti ebrei le carte di identità fasulle per evitare la deportazione. Sono cose che sono state riconosciute, lo hanno assolto anche in sedi processuali. Va riconosciuto, è rimasto sempre fascista e neofascista, è stato consigliere comunale del movimento sociale, quindi ha avuto anche una sua seconda vita. Va però riconosciuto che nonostante non si possa parlare di un uomo che non sia correo di una gestione generale collaborazionista, ha tentato di arginare i più estremisti e ha compiuto insieme ad altri il lavoro dell'amministratore e che ci sia stata questa minima amministrazione comunale, funzionante anche per certi aspetti, è indiscutibile. Il prestito Parini, che raccoglie circa un miliardo di lire dall'ora, è un prestito che serve di fatto ad aiutare i sinistrati dei bombardamenti. Sarà colui che Parini crea quel monte stella fatto dalle rovine dei palazzi bombardati. Poi abbiamo di nuovo i politici, ne avremo parecchi di esponenti politici di Milano, come appunto quattro federali, pensate Faggiotto, Rese, Gabo Attini e Vincenzo Costa. E i socializzatori, Ugo Manuntane è un esempio, coloro che speravano di, proprio a Milano, creare quel connubio tra le forze delle produzioni più diverse, quindi i produttori intesi come industriali e i produttori intesi come i portatori, i prestatori di forza lavoro, gli operai. Tutti questi personaggi rappresentano, come potete immaginare un unicum in camicia nera con il fascio repubblicano sul berretto, ma in realtà sono tante forme di fascismo. Il fascismo laico, amministrativo, il fascismo violento, il fascismo repressivo, il fascismo socializzatore, il fascismo politico, quest'ultimo che tenterà a esperimenti sempre più confusi anche di avvicinamento con settori della resistenza verso la fine. Poi ci sono i tedeschi. I tedeschi sono un altro attore di questo proscenio e qui abbiamo a che fare con tre diverse categorie. I militari, cioè l'esercito, la Wehrmacht per intenderci. E quindi il colonnello Zeger, il generale Zeger, scusate il generale Wenning, sono i comandanti della piazzaforta milanese. Quest'oro si muovono in modo molto riservato, sono più che altro rappresentanti di una autorità, rispondono ovviamente a Kesselring, quindi al comandante di tutte le forze militari almeno fino al 1944 inoltrato. Poi tutto passato, sarà nelle mani come noto di Wolf, cioè del capo delle SS, che diventa anche capo comandante militare. Subito dopo il tentato colpo di Stato del luglio del 1944 sappiamo che Hitler crea le condizioni per un nazismo integrale nel Terzo Reich e quindi affida alle SS il compito di gestire tutto e i militari in qualche modo devono essere posti sotto il controllo della Gestapo e delle SS, quindi tutto il potere passa di fatto a Himmler o al partito e anche in Italia tutto passa nelle mani appunto del capo delle SS che è Wolf. Ma fino a quel momento esiste ancora una diarchia, da un lato diciamo la polizia nazista, le SS e la Gestapo, l'SD, Siegleitzdienst e dall'altra parte la Wehrmacht. Ecco a Milano la Wehrmacht è rappresentata da questi due, prima Seger e poi soprattutto Wenning che è colui che poi di fatto riceve tutti gli strali dell'ultimo Mussolini nell'aprile del 45, ci avete tradito, c'è questa immagine finale di un Mussolini puribondo che torna dalla Civescovado, torna in prefettura e riceve un Wenning che la gente che fuori racconta, fuori dallo studio racconta, viene apostrofato in un tedesco piuttosto energico da Mussolini, accusando, che lo accusa di tradimento, di aver abbandonato i fascisti eccetera, venisce pallido e dice non potevo immaginare, non potevo immaginare. Dopo questi militari chi abbiamo? Beh abbiamo i depredatori, i depredatori, io adesso qui non voglio annoiarvi se no altrimenti le citazioni diventano abbastanza fastidiose. Chi sono i depredatori? Beh i nomi sono poco noti, per merito di un altro storico che ci ha lasciato poco tempo fa che è Enzo Collotti, siamo riusciti a trovare il nome di colui che ha gestito tutto il furto di Milano, il colonnello Sassenberg, di cui non si sa quasi nulla, ha fatto delle ricerche anche con dei colleghi tedeschi, si sa pochissimo, è un vero e proprio esecutore di ordini, ha come obiettivo, è un tecnico, è a comando del Militär Fervaltung, quindi l'amministrazione militare e si occupa semplicemente di trasferire il materiale depredato dalla città. C'è un elenco, adesso ce l'ho là nella valigetta, quindi mi sono dimenticato di portare il volume, c'è un elenco di prodotti che vanno da materiali rotabili a gomma, cauciù, acciaio, bronzo, biciclette, medicinali, viveri, bottiglie di vino, macchinari, macchinari diciamo di precisione, macchinari per l'industria pesante, un elenco lunghissimo che è contenuto nell'archivio del Museo del Risorgimento delle Civiche Contestoriche, sono circa, mi pare, cinque pagine di materiale che è stato segnato dalle autorità del CLM dopo, quando sono venuti in possesso delle documentazioni tedesche, è spaventoso vedere quanto e che tipo di, se mi permettete lo vado a prendere perché è interessante, scusatemi eh. Perché è interessante vedere che cosa effettivamente i tedeschi hanno preso nella nostra città? No, per le d'arte pare di no, pare di no, ma probabilmente qualcosa, sì ma non è stato, non sono riuscito a incontrare un elenco in questo senso, se fosse così non ci sarebbe da stupire, nulla, non sarebbe da stupirci. Allora, c'è, e da Brera stavo dicendolo, ci sono stati, ci sono stati alcuni, alcune sottrazioni, ma non sono segnati in questo elenco. Sì sì ma ci sono stati però dei, sì lei ha difeso, però ci sono stati del pare qualcosa mancava proprio da Brera, qualcosa era stato portato via, ma non risultano particolari, di depredazioni a livello strettamente artistico. Tuttavia, metalli sottratti a Milano, 623 tonnellate di ferro, 195 tonnellate d'acciaio, 235 tonnellate di zolfo, 2 tonnellate di ottone, 6 tonnellate di stagno, 35 pile di rame, 810 tonnellate di cemento, carburante. I tedeschi hanno requisito quasi, 2.000 tonnellate di benzina, centinaia di tonnellate di benzolo, nafta, bitume, olio lubrificante e ancora possiamo parlare di centinaia di tonnellate di tessuti, cotone, canapa, feltro, riserve di medicinali, chinino, prodotti farmaceutici, insulina che è introvabile e poi tonnellate di cristallerie porcellane, legna, carbone, metri cubi, 14 almeno metri cubi di legnami pregiati. Non parliamo dei generi alimentari, 12 tonnellate di caffè, 172 quintali di riso, persino 120 kg di sgombri, 200 kg di spezzatini di pollo in scatola, 720 kg di senape e poi ancora 1.775 bottiglie di vino pregiato, 764 casse di lacrima Cristi, 11 tonnellate di bottiglie di vino e distinto da questo quasi 8 tonnellate di barbera, 2.500 bottiglie di alcolici, insomma alla fine aggiungiamo 10 mucche, 17 vitelli, 38 maiali, 7 cavalli, biciclette, automobili, camion, autocarri, tutto viene regolarmente inviato in Germania, ottenuto anche dalle famiglie dei vari ufficiali per il loro diletto. Infine ci sono i repressori, i repressori sono rappresentati da due personaggi come Walter Rauf e Theodor Sebeck. Rauf è il comandante del Sicherheitsdienst, cioè del servizio segreto delle SS, un uomo violento, un uomo volgare, brutale, probabilmente sadico ed è il comandante della polizia nazista a Milano. Il suo braccio destro è un integerrimo commissario di polizia di Berlino che è entrato nelle SS, Teodor Sebeck e è un uomo elegantissimo, dai modi molto raffinati, spietato, violentissimo nelle decisioni, efficientissimo. Sarà Sebeck a coordinare tutta la repressione nazista, sotto Sebeck i suoi uomini, assai meno raffinati ed eleganti di lui, si muoveranno tra i due nidi, è il caso di usare questo termine, nazisti a Milano, l'hotel Regina e San Vittore. Il terzo vertice di questa triangolazione sarà il binario 21. Sebeck tornerà a fare il commissario di polizia durante la Bundesrepublik, che verrà finalmente processato soltanto alla fine degli anni 90, in un noto processo qua a Milano. Quindi questi sono i tedeschi. Poi abbiamo i resistenti, i gruppi d'azione patriottica di Rubini e di Pesce, che sono le prime unità, prima con Rubini, unità molto piccole. Teniamo conto che i rapporti qui sono rapporti tutti a favore dei fascisti, da puntista numerico. I partigiani, la resistenza milanese è esigua, sono pochissimi. Parliamo di gruppi di tre, quattro elementi, moltiplicati forse per dieci diversi nuclei, nel massimo dello sviluppo tra il 43 e il 45. Dall'altra parte abbiamo decine di migliaia di tedeschi e di fascisti armati. Ancora al 25 aprile del 45 abbiamo alcune centinaia di partigiani, conto 7.200 fascisti nel centro di Milano armati di tutto punto. È il caso di ricordarlo, perché l'immagine di questa sorta di Milano che si ribella in massa non è proprio corrispondente alla realtà. Comunque tornando ai partigiani sicuramente si muovono con molto coraggio, con molta fatica nella prima fase. Non a caso Rubini e i suoi vengono catturati e verranno anche uccisi. Poi arriverà Pesce. Con Giovanni Pesce inizia una nuova fase dei gruppi d'azione partigiana, patriottica, e i GAP si muoveranno chiaramente con lo strumento, inutile negarlo, lo usa lo stesso Pesce, con lo strumento del terrorismo. Dall'altra parte abbiamo le SAP. Molto affascinante la storia delle SAP. La SAP di Italo Busetto è un'altra cosa. Le squadre d'azione patriottica sono dei dormienti, ovvero sono degli insospettabili. Possono essere dei docenti universitari, possono essere dei postini, possono essere degli impiegati comunali. Vivono normalmente, sovente anche con la tessera del PFR, del Partito Fascista Repubblicano. Partecipano alle adunate quando ci sono, le adunate zona rionali, piuttosto che anche le adunate centrali in Piazza San Sepolcro. Però poi di sera si riuniscono, magari sono semplicemente due, il marito e la moglie. Sono un SAP e loro organizzano una particolare azione di tipo propagandistico o anche di sabotaggio. Tendenzialmente le SAP hanno una forte componente socialista e azionista, mentre i Gappisti sono tendenzialmente più comunisti. E poi abbiamo le Brigate. Sì, le Brigate Partigiane appariranno tardi, appariranno nella tarda primavera del 44. Le Garibaldi, le Matteotti, la Brigata Malatesta, gli Anarchici, le GL, le Giustizia e Libertà e quindi i nomi sono tutti ben noti. Longo, Bonfantini, Bruzzi, Concordia, figura anche piuttosto chiacchierata. Pensate, Germinale Concordia, già il nome sembra un programma. Era terra il capo del comandante della Malatesta, Bruzzi. E poi Ferruccio Parri, naturalmente, e altri ancora. C'è una resistenza cattolica, pensate a Carlo Bianchi, che è uno dei martiri della resistenza cattolica. Pensiamo all'azione straordinaria fatta dall'Università Cattolica, all'organizzazione Oscar, che era l'organizzazione che proteggeva non solo gli antifascisti, ma ha protetto anche tanti ebrei e è riuscito a farli espatriare. Don Bicchierai, con tutto il lavoro straordinario di questo sacerdote nel salvare molti dalle grinfie degli uomini di Sevecche, il giornale Ribelle, che era apparentemente stampato a Brescia, ma in realtà veniva prodotto a Milano. Ce l'ha scritto Brescia, ma solo per deviare dalle possibili inchieste. Aggiungiamo un elemento molto importante, anche questo poco noto, Maugeri, il colonnello generale Maugeri e la terza regione della Guaglia di Finanza, che praticamente dalla fine del 43 è organica al CLN. La Guaglia di Finanza si depura degli elementi fascisti, in modo molto astuto, Maugeri riesce a toglierli di mezzo senza troppa difficoltà e poi di fatto si muove apparentemente inserita nell'ambiente, nell'ambito militare di Salò, in realtà è completamente infiltrata di partigiani. Alla fine, nel 25 giugno del 45, nel 25 aprile del 45, la Guaglia di Finanza sarà il braccio armato della occupazione delle principali caserme. Saranno loro ad occupare le caserme della Polizia, le caserme della Beccatenere. Attenzione, anche nella Polizia, anche nella Caruso c'è addirittura un gruppo che si chiama Gruppo Marà e il Gruppo Marà è composto da ufficiali e agenti di polizia che si sono schierati clandestinamente col CLN. E poi ci sono gli scioperanti, anche loro ovviamente, i grandi scioperi del dicembre del 43, soprattutto nel marzo del 44, Milano, o meglio la cintura operaia, produce, è stato riconosciuto dalla BBC, è stato riconosciuto dal governo britannico, la più grande manifestazione operaia d'opposizione in una nazione occupata dai tedeschi d'Europa. Non c'è mai stata una mobilitazione operaia così grande come quella che avviene nel marzo del 44 a Milano. È una mobilitazione che fallisce nei progetti soprattutto delle cellule comuniste che pensavano all'insurrezione attraverso lo sciopero, ma sicuramente rompe anche gli ultimi tentativi di avvicinamento tra operai e regime che i socializzatori e anche gli amministratori alla Parini avevano tentato di fare. Aggiungiamo che ci saranno altri protagonisti come le autorità religiose e quindi Schuster, sì, ovviamente il defonso Schuster è un personaggio centrale, importante, con un passato molto imbarazzante perché è sicuramente stato e i fascisti di Salò ci giocheranno molto in termini di propaganda su questa cosa perché in passato è stato molto vicino al regime, ha applaudito il Mussolini alleato di Franco, ha benedetto i gagliardetti dei fascisti che partivano appunto per il fronte iberico, però poi lo Schuster del 43-45 tende, se non all'ambiguità, sicuramente a posizioni molto autonome rispetto al regime di Salò e questo chiaramente lo porterà poi ad avere un ruolo centrale come sappiamo nelle trattative finali. Ma poi ci sono anche, come c'è Don Bicchierai che è schierato con la resistenza, non dimentichiamoci che abbiamo Don Antonio Bruzzesi, cappellano dell'Aldoresega, Don Alfredo Epaminonda Troia che è il cappellano della banda Koch, mi domando quale prete potesse mai benedire quello che veniva fatto a Villa Triste. Poi ci sono gli alleati, ci sono il bomber command, ci sono le spie come Max Salvadori, le vittime, le spie che sono agenti dell'intelligent service, della MI6 che arrivano a Milano per organizzare le insurrezioni, gli attentati e le cose naturalmente hanno grosse difficoltà perché loro si muovono collaborando soprattutto con la resistenza moderata, con i liberali, con i democristiani, con la resistenza con le stellette, con Cadorna, hanno più difficoltà a interagire chiaramente con comunisti e socialisti. Le vittime, le vittime negli attentati, non dimentichiamoci che questi attentati, lo stesso Pesce se ne renderà conto, pur essendo fatti con l'obiettivo di liberare la città dall'oppressione, vedono la morte di tanti innocenti. Viale Abruzzi, sappiamo bene, le dieci vittime di Viale Abruzzi non ce n'è una, c'è solo un ferito tedesco e a causa di quel ferito, solo con la scusa di quel ferito che ci sarà poi la repressione di piazzare Loreto. Quindi ci sono le vittime degli attentati che vanno comunque ricordati perché comunque sono parti integranti di quei circa 5.000 morti che Milano ebbe nel 1943-1945 tra bombardamenti, rappresaglie, attentati, partigiani uccisi, fascisti uccisi, 5.000 complessivamente ho contato, all'incirca ovviamente. Abbiamo poi i deportati politici e i deportati ovviamente israeliti, ebrei, certo, come non ricordare il binario 21, come non ricordare i 672 ebrei milanesi tra morti e deportati. Pensate che di quelli ne sopravviveranno dei deportati solo 94, cioè circa il 15%, di tutti i milanesi catturati sopravviveranno il 15% circa, di questi una è la senatrice Liliana Segui. Allora, i bombardati, certo, i bombardati e quindi gli sfollati, coloro che non hanno più la casa, come mia mamma per esempio, che perde la casa proprio nel 1943, ci sono naturalmente gli affamati e ci sono coloro che fanno di tutto per aiutare. Perché poi non dimentichiamoci che quando c'è una città bombardata ci sono anche degli eroi che non vengono mai riconosciuti. E permettetemi di ricordarmi, ricordare soprattutto i vigili del fuoco. Il corpo dei vigili del fuoco di Milano si è coperto di gloria e di onore nei giorni dei bombardamenti a Milano. E lo dico perché sono nipote orgoglioso di un brigadiere dei vigili del fuoco che era a Gorla il 20 ottobre 1944. Vanno sempre ricordati, così come i di un pini, cioè l'Unione Nazionale di Protezione Anteria, non era composta soltanto ed esclusivamente da imboscati, come qualche fanatico sosteneva, ma anche da ragazzi che si sono veramente prodigati per salvare i cittadini da un destino segnato. In generale poi i milanesi sono i protagonisti, mi avvicinò alla conclusione, mi pare, giusto? E c'è tempo. Ah, vabbè, ti ringrazio. Ecco, sì, ma io ho cercato però di mescolarlo in modo meno... Sennò era noioso. Sì, ecco, vabbè, questo addirittura, John Rida addirittura non pensavo di arrivare così tanto. Non condividendo tutte le idee di John Rida ne riconosco la capacità e la penna. Ed è un orgoglio essere paragonato, insomma. Dicevo, poi ci sono i milanesi, perché poi in tutto questo sembra che noi stiamo parlando di una città perennemente sotto assedio. Attenzione, Milano è sotto assedio, nel senso che dal punto di vista della passeggiata, se tutti noi camminassimo nella Milano del 44, saremmo sorpresi dalla quantità gigantesca di uniformi che incontreremo. Uniformi di tutti i tipi, perché poi se c'è una caratteristica, che qua gli uniformologi vanno a nozze col periodo di Salò, perché Salò si scatena con una pletora di uniformi che dimostrano, lo dicono gli stessi fascisti nelle loro memorie, dimostrano la confusione totale di gruppi, formazioni militari, ostentazione di simboli sempre più ridondanti, morti, teschi, tibie incrociate, fasci, pugnali, gladi, tutto mescolato in uniformi sempre più aggressive. E poi i tedeschi e quant'altro. Sì, sembra una città militarizzata, eppure c'è anche, e naturalmente è una città che vi tanto in tanto ha come dire colonna sonora, l'esplosione di una bomba dei GAP da questa parte, il colpo di mitra dall'altra parte di qualche mutino che insegue un sospetto e che lo falcia in mezzo alla strada, qualche colpo di rivoltella come quello che viene esploso esattamente 5 nel dicembre del 43 contro il federale Aldo Resega, qualche colpo di fucile e mitragliatore a campo giuriati quando vengono falciati 8 ostaggi in seguito all'uccisione di Resega, qualche colpo di mitra che colpisce i 15 martiri di Piazzale Loreto. In tutto questo e nelle bombardamenti che ne seguono e nel pippo che arriva basso, questo piccolo caccia americano, sono gli americani quelli che compiono le mitragliate, ma sono gli inglesi quelli che bombardano di giorno. Attenzione, ci sono tre diversi modi di colpire, gli americani colpiscono di notte, è meno preciso ma è anche meno rischioso, gli inglesi colpiscono di giorno, è più preciso ma anche più rischioso per loro ovviamente. Però poi gli americani con i caccia tendono spesso ad arrivare soprattutto se non proprio in città, nelle periferie e mitragliare quello che trovano. Gli obiettivi sono sempre quelli però degli snodi ferroviari, soprattutto l'ambrate. Ma dicevo, a parte questa terribile colonna sonora, la città funziona per certi aspetti, questo bisogna anche dare atto alle autorità cittadine perché c'è effettivamente un bilancio che funziona, ma soprattutto c'è una città che vive e qua Milano dimostra delle capacità forse uniche, perché non si riscontra una cosa simile nei racconti della Torino occupata o nei racconti della Bologna occupata. Milano vive una clamorosa dicotomia, quasi una situazione schizofrenica. Da un lato è una città occupata, sottoposta a queste violenze e dall'altra parte i teatri sono pieni, i cinema sono pieni. I ristoranti non molto perché quelli ultra raffinati come Bifi e Giannino hanno ben poco da proporre e quel poco da proporre è inavvicinabile a livello economico, semmai Giannino si occupa della banda Koch perché la Koch si rivolge a Giannino quando deve fare le sue festicciole a fianco di Villa Fossati con Aragoste e Storioni che arrivano direttamente da Giannino in via scesa, era ancora Giannino. Ma parlo soprattutto delle mese popolari, ma ripeto, il cinema, le case di tolleranza che diventano anche un luogo di scambio di informazioni, molto interessante la vicenda delle case di tolleranza. Gli esercizi pubblici, piccoli e scalcinati Luna Park, si riempiono laddove possibile di famiglie, naturalmente nei giorni e durante la giornata, quindi fuori dall'oscuramento, è chiaro, non è che abbiamo lo spettacolo serale, alle 5 e mezza, alle 6 si chiude tutto. Però ecco per esempio i bambini che vanno a comprare i freguide bumbum, come si chiamavano, quindi quegli avanzi di pasticceria dentro i sacchetti per pochi centesimi che venivano venduti insieme alle caldaroste, che loro costavano poco, proprio nei Luna Park e nei giardini pubblici. Le famiglie cercano una normalità, una normalità che la cosa più curiosa spesso è una via di fuga. Andiamo a vedere quali film vengono visti nella Milano dell'occupazione, nella Milano di Salò, della guerra civile eccetera. Sono visti non certo Jarabub, non certo l'assegno dell'Alcazzar, non certo Camicia Nera o Vecchia Guardia o Addio Chira con la bellissima Lida Valli, tutti i film ideologici e Fosco Giacchetti che peraltro faceva la gente della GPU e hanno dovuto ritirare il film perché tutti stavano, le donne erano innamorate di Giacchetti che pure faceva il comunista, quindi ci fu un problema con quel film lì perché il cattivo, il vilene era troppo affascinante e Fosco Giacchetti era uno degli attori più sexy di Cinecittà. Ma al di là di questo, ecco, no non ci sono quei film, ci sono i film di Macario, ci sono gli spettacoli di Carlo D'Apporto, c'è il quartetto Cetra che peraltro avrà problemi con la Muti perché Felice Chiusano viene picchiato proprio perché non è favorevole. E poi ci sono altri, certo ci sono anche compagnie particolarmente schierate politicamente con i fascisti, però tendenzialmente e fanno spettacoli prendendo in giro la resistenza, i partigiani eccetera, ma a parte un paio di queste, per il resto è davvero un spettacolo di distrazione e i film sono appunto di Totò, di Macario, sono i film di De Sica che sono di fatto film leggeri, sono quelle funny comedies americani molto divertenti, anni 30 che vengono ripresi dalla vecchia Cinecittà e quei pochi film sono un pugno che vengono prodotti da quel fantasma di Cinecittà che a Venezia è stato ribattezzato da Salò Cinevillaggio. Due saranno gli attori protagonisti di questa stagione cinematografica, l'ultimo film che verrà proiettato di questa due coppia straordinaria e terribile di attori, straordinaria perché erano entrambi due, erano affascinanti, erano bellissimi, terribile perché vennero coibolti anche se non come si pensa alle vicende della COC, ma in realtà nessuno partecipò di loro due alle torture, questo è riconosciuto, fecero un ultimo film, cioè venne proiettato all'Odeo un ultimo, no all'Odeo nuovo, un ultimo film, pochi giorni prima di insurrezione, che si intitola Borizzonte di Sangue e tre giorni dopo Svaldo Valenti e Luisa Ferida verranno fucilati, uccisi proprio, un orizzonte di sangue che stava per arrivare. Ecco, quindi in qualche modo si fa il possibile. Ultime cose da raccontare, poi chiudo. I luoghi, un po' li ho citati, però giusto per capire i luoghi di questa Milano sotto Salò. Allora, piazza San Sepolcro, il 14 settembre 1943, un certo avvocato Lavinia che ha le chiavi, non si è più saputo chi fosse questo Lavinia, l'ho cercato, Antonio mi pare, è un avvocato fascista, scompare dall'orizzonte proprio dopo, ma ha le chiavi della casa del fascio, che è ancora intitolata Costanzo Ciano, perché la casa del fascio primigenio era intitolata al padre di Galeazzo Ciano. In seguito verrà ribattezzata casa del fascio Aldo Resega, ovviamente, primo martire della Milano Salodiana. Attenzione, il primo martire di Salò è Ettore Muti, anche se viene ucciso prima. Il primo martire di Milano è Resega e quindi lui arriva e riapre i portoni, i battenti di piazza San Sepolcro. Tra l'altro piazza San Sepolcro è diventato, a quanto pare, una specie di acquartieramento di bersaglieri durante Badoglio e sembra che gli uffici del federale fossero usati come camere di decenza, tanto per intenderci, insomma, toalette, insomma, latrine. Quindi, insomma, pare che la cosa fosse, avesse innervosito molto Resega, perché subito dopo Lavinia arrivano appunto i fascisti, tornano tutti chiaramente circondati da tedeschi, perché sono i tedeschi quelli che arrivano per primi. Non è che arriva una unità di Wehrmacht, questo già fa capire come funzionerà Milano, arriva la Leibstandarte. La Leibstandarte Adolf Hitler è la prima divisione di Waffen SS, si sono recati pochi giorni prima sul Lago Maggiore, hanno fatto fuori gli ebrei, hanno ucciso, mi pare, otto ebrei. Saranno famosi per quello che compieranno a Boves poche settimane dopo. Quindi la Leibstandarte è quella che arriva subito a Milano. Questo è dell'SS. Dopodiché chiaramente arrivano i fascisti. Arrivano i fascisti e riaprono Piazza Sansepolcro. Da quel momento Piazza Sansepolcro diventa il luogo del fascismo milanese. Ci saranno naturalmente circoli rionali che verranno aperti dappertutto, in Piazza Obel, in Via Finzi, vicino a casa mia, verranno aperti verso la Fiera Campionaria. Soprattutto nelle zone popolari si tenta. Poi piano piano però ce ne saranno sempre di meno nelle zone popolari, si comincerà a avvicinarsi sempre del più al centro. Poi c'è Viale Monza 23, importante da ricordare, un altro luogo dove nascono i GAP. I gruppi di azione patriotica nascono in Viale Monza, poi ci saranno degli sviluppi in Via Padova. Notate le zone, sono tutte zone orientate verso quella che poi viene chiamata la Stalingrado d'Italia, la cintura operaia che comprenderà infatti tutta una serie di importanti fattori produttivi che diventeranno centri di insurrezione o perlomeno di protesta operaia. Perché poi non è detto che gli operai protestino perché vogliono la rivoluzione o perché vogliono la liberazione. Soprattutto protestano perché i selari sono bassissimi, l'alimentazione è scadente e le promesse dei socializzatori non sono mantenute. Questi sono i dati che emergono anche dai commenti un po' sconfortati della resistenza. E quindi la OM, la Breda, la Falc, ovviamente comunque le reazioni sono reazioni da parte dei fascisti sovente pesanti. La Muti in questo senso si muove con pesantezza. Palazzo Carmagnola, eccola lì, Via Rovello, la sede della legione Muti. Non a caso da quel luogo d'orrore Streller decise di creare il Tempio della cultura teatrale milanese, tra l'altro una sede periferica della Muti e dove adesso soge il teatro melato, cioè il teatro studio. Quindi paradossalmente anche in via Rivoli c'era una sede della Muti. Villa Fossati, ne abbiamo parlato, dove arriva ad agosto Pietro Coc con i suoi scherani, proviene da Roma, si è già distinto agli ordini di Kapler, prima ha lavorato col terribile Mario Carità a Firenze, quindi ha un curriculum tutto particolare, gioca a fare l'agente segreto, non farà soltanto torture, non ucciderà nessuno, tra l'altro a Villa Fossati non ci sarà un morto salvo, un povero elettricista che verrà ucciso da un bambino dei torturatori di Coc che gioca con il fucile del padre, ammazzerà questo povero elettricista che sta sistemando i cavi. Quindi nasce la leggenda di un Coc che ha fatto uccidere gli operai come facevano i faraoni per nascondere le trappole, non è vero, ma le torture vengono fatte come la gente è impazzita in quei 45-40 giorni di presenza di Coc a Milano. Lui però soprattutto oltre a fare questo lavoro fa anche le indagini sui gerarchi, lavora un po' per conto dei tedeschi, lavora per conto di Bufarini Guidi, cadrà in disgrazia quando cadrà in disgrazia il ministro degli interni Bufarini Guidi. Verrà arrestato, poi liberato e poi sappiamo essere stato fucilato dalla Repubblica, tra l'altro. La prefettura di Milano, altro luogo importante, lì Mussolini arriva il 18 aprile, lì tenta la trattativa finale, fa di tutto. Tra l'altro ho scoperto anche che incontra niente meno che John Amery. John Amery chi è? È il figlio del ministro delle colonie di Churchill, è fascista, ha lasciato l'Inghilterra e ha costituito una piccola legione di San Giorgio agli ordini di Himmler con dei prigionieri inglesi. Si trova all'hotel Diana e Mussolini, è l'unica volta che Mussolini esce dalla prefettura in quei giorni, a parte quando va da Schuster, e incontra inspiegabilmente questo collaborazionista inglese dei nazisti, forse per tentare un abboccamento con gli inglesi. Vai a capirlo. Nessuno sa cosa è successo in quell'incontro. E quindi la prefettura, ecco la prefettura Villa Necchi Campiglio, che è lì dietro, quindi in via Mozart, dove ci sarà l'ultima sede del partito fascista nazionale, cioè Repubblicano, ma di Salò, andrà a Pavolini a stare lì verso gli inizi di aprile. Vado veloce. L'arena civica, dove il 19 dicembre del 43 ci saranno otto fucilati. Il Campo Giuriati in via Pascal, dove ci saranno numerosi fucilati tra il gennaio e il marzo del 45. Il binario 21, ovviamente l'ho già citato. Piazzale Loreto, Piazzale Loreto 44, i 15 martiri. Piazzale Loreto 45, l'impiccagione di Mussolini della petaccia e dei suoi gerarchi. Piazzale Brescia, dove c'è l'amministrazione tedesca. L'hotel Ex Savoia, in Piazza Fiume, oggi Piazza della Repubblica, dove c'è l'NSDAP, il partito nazista a sezione milanese. E dove c'è il consolato tedesco. La fiera campionaria, dove c'è tutta l'armata e il deposito della Wehrmacht, l'hotel Regina e Metropoli, il nido, dove albergano Seveke e Rauf. Via Moscova, dove c'è la GNR. La GNR, il Guardia Nazionale Repubblicana, nasce dalla fusione tra Polizia dell'Africa Italiana e Carabinieri e quindi via Moscova diventa la sede principale della GNR. Poi la via Fatebene Fratelli, nuova sede della Questura, perché Piazza San Fedele è stata distrutta dai bombardamenti del 42. San Vittore, da ricordare, quarto e sesto braccio per i politici, ultimo piano del quarto braccio per gli ebrei. Poi sono così tanti gli ebrei che si dovrà dedicare a loro un intero braccio, il quinto. Operano a Guzzini ferocissimi, come il caporal maggiore Helmut Clem o il caporal maggiore Franz Staltmeier, detto il porcaro o la belva. Gira con un frustino e gira con un cane lupo addestrato a mordere. Gira anche la banda Melli. Chi è Melli? Melli è un tenente, molto elegante anche lui, tende a ossigenarsi i capelli e a vestirsi con gli abiti molto raffinati, con uniformi molto raffinati. È un viver, ama le belle donne, è un torturatore spietato agli ordini del comandante Ferdinando Bossi dell'Ufficio Politico Investigativo. Sarà sostanzialmente l'esecutore delle torture imposte da Staltmeier. Sesto San Giovanni, l'abbiamo già citato, ci manca l'hotel Plaza in piazza Diaz che è un transito dei pezzi grossi fascisti. È un hotel importante perché arrivano tutti da Roma, quando cade Roma, perché la caduta di Roma è la chiave di volta del nuovo fascismo che nascerà nell'estate del 44, il nuovo fascismo repubblicano, quello violentissimo, quello delle Brigate Nere. Vittorio Emanuele III è Luigi XVI, la Repubblica è uguale a quella della Convenzione per loro. Vittorio Emanuele è Luigi XVI, i partigiani sono la Vandea, la ghigliottina non c'è più ma c'è il Mitra. Adesso si combatte al coltello per la Repubblica italiana che è sociale e fascista contro il capitalismo, contro il giudaismo, contro la massoneria, contro i poteri capitalisti occidentali, per la vera Italia di Mazzini e di Garibaldi che noi fascisti rappresentiamo. Questi sono i ragionamenti che spingono molti a scappare da Roma, caduta e liberata, e arrivare appunto a Milano e vengono accolti quelli più benestanti e quelli da trattare bene all'Hotel Plaza. Il lirico sarà il luogo dove Mussolini farà il suo ultimo discorso, un discorso che chiamerà all'appello una intera generazione di fascisti ormai stanchi per lo più, parlerà di armi segrete, parlerà di armi che Italia ha assicurato sconvolgeranno le leggi della fisica. Si sa che c'erano gli esperimenti sulla bomba atomica anche in Germania. Ci crede ancora, parla, ha un successo, ha un successo indiscutibile Mussolini del lirico, è un successo tra fascisti perché al lirico ci vanno solo i fascisti, lo dicono gli stessi fascisti, non c'è posto per i milanesi perché si teme, ma poi perché davvero li chiamano da tutta l'ultimo pezzo di Repubblica che ancora sopravvive nel dicembre del 44, arrivano dal Piemonte, dal Veneto, dalle province lombarde. Però fuori le testimonianze delle persone che si affacciano su Via Dante, piuttosto che quando va a trovare Colombo e Lamuti, piuttosto che le testimonianze di chi passeggia per Piazza Duomo o per Via Larga, che all'epoca non si chiamava Via Larga ma si chiamava Via Adwa, dimostrando che c'è una popolazione che applaude. Ma chi applaude? Applaude il capo del fascismo o Benito Mussolini che molti milanesi credono poter separare dal fascismo? Molti milanesi dicono i fascisti ci hanno messo in questi guai, ma Mussolini ci risolverà il problema, molti non tutti, ma molti lo credono. Ma Mussolini commette l'errore di dire la stessa cosa che Badoglio ha detto il 26 del 43, la guerra continua. Allora per concludere, Milano la possiamo definire una città fascista repubblicana? No. Già, qui ci vorrebbe Ivano, già Ivano Granata ha dimostrato nel suo studio, uno dei pochi che è stato fatto sulla Milano del ventennio, che Milano non è una città fascista. Se non è una città fascista negli anni in cui, almeno fino al 1935, Mussolini credeva nella grande Milano, della quale parleremo l'anno prossimo parlando dell'accorpamento dei corpi santi del 23 eccetera, se non riesce a essere fascista fino in fondo, come fa a essere fascista repubblicana? Dove di nuovo saltano fuori gli squadristi, dove ci sono i tedeschi, dove c'è... non è fascista, ma non è neanche antifascista. Questa è la mia conclusione, non la... non vedo una città né fascista né antifascista, ma semmai affascista, una città che vuole superare e vuole chiudere con tutta questa esperienza e vuole ricominciare a fare quello che sa fare meglio, e cioè lavorare, lavorare, riprendere... e questo vale anche per quella borghesia che avrebbe dovuto appoggiare il fascismo, quella borghesia produttiva, compradora, industriale, che invece a un certo punto dice basta, voi non ci state aiutando, voi state consegnando i fattori produttivi ai tedeschi, è per motivi economici che la imprenditoria milanese si ribella, perché non ci crede più a questo fascismo che se già prima era alimentare, ora lo è definitivamente asservito a una potenza straniera, non ha più e non ce la fanno gli stessi fascisti a dimostrare il contrario. Per quanto riguarda l'altra parte, la piccola borghesia deve arrangiarsi con che cosa? Deve arrangiarsi con il prezzo ufficiale delle luova che è salito a 16 lire l'una nel 45, il pollame a 230 lire al chilo, i capponi valgono 250 lire, i conigli 115, tenete conto che un paio di scarpe con la scuola Suola Vibram costano fino a 2000 lire, quasi uno stipendio medio, ma come si fa a sopravvivere? Come fa il ceto medio e piccolo a sopravvivere in quelle condizioni? E gli operai? Ma gli operai non ci credono più, basta, non ci credono più, non ci hanno creduto, ci hanno creduto fosse in parte negli anni ancora di sviluppo, negli anni della piena occupazione, adesso basta, non vogliono più sentirmi parlare, il problema è che qualunque Mussolini e qualunque fascismo si possa presentare, è ormai finito, vogliono cambiare, vogliono voltare la pagina, da questo a parlare di una militanza antifascista? No, applaudiranno Mussolini credendo che Mussolini possa risolvere le cose, scopriranno che non è incapace di fare nulla, allora lo lasceranno a suo destino e poi ci sarà sempre quello che sale sul calo dei mingitori, come la chiamano in America, la bandwagon, salire sul calo dei mingitori, attribuito erroneamente a Flaiano di cui ricordo in questi giorni la morte, la famosa frase che gli italiani sovente accorrono in aiuto dei mingitori, ci sarà la piazzale Loreto che ha ragione, ha avuto ragione, Ferruccio parli a definirlo una macelleria messicana di bassa qualità, una cosa che non ha sicuramente fatto onore a nessuno. Allora, chiudiamola così, alla fine di tutto il 25 aprile del 45 Mussolini tenta tutte le cose che può tentare un abile ma ormai invecchiato uomo politico come lui. Tenta la carta della trattativa con quella parte della resistenza che decide lui quale essere. Intuisce che ci sarà presto una rottura nel fronte della resistenza, nel fronte internazionale, capisce che siamo lì per l'inizio della guerra fredda, se ne rende conto. Tenta di contattare le forze moderate, i liberali, i democristiani e magari anche attraverso Max Salvadori qualche alleato che comunque già gira per Milano, lo stesso Max Salvadori. Tenta però contemporaneamente di contattare un'altra area della resistenza, una parte di azionisti e persino qualche settore anarchico, il famoso germinale Concordia. L'obiettivo è quello contemporaneamente di aprire una trattativa per consegnare la Repubblica a quelle che lui chiama creare le mine sociali nel caso in cui arrivino, quando anzi sicuramente arriveranno gli alleati, ovvero sia mine sociali, consegnare la Repubblica alle forze che potranno opporsi agli alleati. Quindi già di per sé è un gioco completamente contraddittorio. Da un lato tratta con i moderati, con Cadorna, con i liberali, con i democristiani e dall'altra parte manda emissari per trattare con i socialisti e i repubblicani. Ovviamente non con i comunisti perché sa che non gli concederanno nulla. E poi contemporaneamente ha un altro progetto, il quadrato di Monforte, tutto intorno alla prefettura che è diventata un fortino illuminato con le foto elettriche e riunire o lì o in piazza San Sepolcro o in tutti e due i nuclei tutti i fascisti disponibili, la brigata nera resega, i mutini eccetera. Notate che sia il comandante dell'esercito che si chiama Diamanti, sia l'uomo, il militare più importante che c'è ancora un momento sulla piazza, che non è Graziani, ma è semmai Borghese, se ne stanno asseragliati tranquillamente nelle loro caserme e aspetteranno l'arrivo degli alleati. La decima masto non viene toccata da nessuno, che è la più forte come livello militare. Quindi in realtà può contare solo sulle camicie nere. La terza opzione, ridotto al pino repubblicano, tutti in Valtellina, aspettiamoli lì. La proposta di Pavolini. In realtà lui cerca la bella morte. Probabilmente Pavolini sono 600 giorni che sta facendo un suicidio lunghissimo. E poi c'è l'ultima opzione, salta fuori di nuovo Bufarini Guidi con un'idea geniale. Dice abbiamo già preso contatti con gli svizzeri. Perché è vero, Mussolini nei giorni che a Milano contatta alcuni agenti, diciamo alcuni inviati del governo ilvetico. Allora siccome il federale Costa e altri dicono, lo stesso Pavolini, gli dicono Duce, dopo che questa trattativa con questi settori della resistenza fallisce da Schuster, gli dicono andiamo verso la Valtellina. Quindi prendiamo la strada Verlecco, che peraltro è libera da partigiani. Ce ne sono pochi. Anche in Valtellina la situazione è buona, dice Pavolini. Ci sono le fiamme verdi, ma sono pochi. Non ci sono tanti Garibaldini. Abbiamo anche creato una brigata nera, creato col fazzoletto rosso, così un gioco di un cortocircuito. Lì a Sondrio abbiamo il generale Onori che ci aspetta. Prendete la strada di Lecco. Ma Bufarini qui dice ma no, ma andiamo a trattare come stanno già facendo i tedeschi in Svizzera. Perché lì in Svizzera intanto vi mettete al riparo da tutto e poi mandiamo vostra moglie, portatevi pure la Petaci. E venne andati in Svizzera a trattare come Rauf, come Wolf, sta facendo. Perché il motivo per cui salta la trattativa all'Arcivescovado è che Mussolini, Graziani e gli altri scoprono che i tedeschi da tempo stanno trattando con gli alleati. E allora invece della strada per Lecco, prendono la strada per Como, che è quella che arriva direttamente in Svizzera, non in Valtellina. E sappiamo bene come va a finire. A quel giorno, alla fine del 25 aprile 1945, all'Odeon, San Babila, si proietta un film. Parla di un tabaren assediato da un gruppo di gente armata. Il titolo si chiude all'alba. Grazie. Bene, bene, bene. Grazie Marco. Allora possiamo discutere un po', no? Sì, sì. La parola, bella e molto bella, la reazione molto vivace, molto brillante. Questo Milano fascista o antifascista, sai che mi ha fatto venire in mente, con insistenza, una lunghissima conversazione che ebbe con Giorgio Bocca. Ero andato a trovarlo a casa sua, assieme a un gruppo di ragazzi che gli abbiamo fatto poi una intervista che abbiamo anche proiettato qui e che vorrei recuperare per il prossimo 25 aprile. Lui proprio lavorò su questa cosa di tutto il tempo. Milano dice, io, questo è molto torinese, è la sua cosa, io venivo da Torino, e lì erano tutti antifascisti. Questa era, scusate, scusatemi, no. Venivo da Torino, erano tutti antifascisti. Arrivo a Milano, mi trovo un fascista. Lì abbiamo la sua teoria, lui la definì così, Milano città ambigua. E ho trovato una definizione che non me la sono più tolta dalla testa. Lì è una città ambigua, la differenza. Che pesce a dire? Certo, lì aveva dato io che pesce allo stesso tipo di... Sì, questo non lo sapevo. Sì, sì, allo stesso tipo di impatto. Sì. In bocca mi ha molto colpito, perché poi Bocca commentava, quella conversazione fu incredibile, alcune cose ho dovuto tagliare. Non erano presentabili in pubblico alcune delle cose che dice. Però è affascinante. Questa teoria appunto della ambiguità che c'è la città. È una città in cui c'erano, erano operanti, anche i fascisti. No, c'erano veramente lui. C'erano operanti, anche gli antifascisti, altri c'erano operanti, perché devo dire operanti, perché erano vivissimi, insomma. Però c'era, anche c'era questo scontro, questa è una narrazione di Bocca in cui lo scontro si sentiva nell'aria e si toccava con mano dappertutto, insomma. Ecco, questa è una cosa che mi hai richiamato con la tua narrazione così vivace, così brillante. Prego, aspetta un attimo che ci arriva Maurizio con il microfono. Grazie per una bellissima lezione. Le volevo chiedere una curiosità. Perché non è stata scelta Milano, capitale della Repubblica Sociale e Salò? I tedeschi forse si opponevano? Era forse più vicino. Eh, forse, non lo so. Adesso me lo chiedevo mentre ascoltavo l'importanza di Milano. Grazie. Grazie a lei. No, beh, Milano non viene scelta, sì, perché i tedeschi non la vogliono. Ma, attenzione, non è molto chiaro questo passaggio, perché sicuramente non la vogliono i tedeschi. Non la vogliono per alcuni motivi che lei ha già anticipato. Cioè, innanzitutto, il lago di Garda, soprattutto la sponda, beh, la sponda, non veronese, se non ero all'epoca, era molto meno fornita di alberghi e di strutture che avrebbero potuto ospitare i ministeri. Va anche detto che dalla parte occidentale del Garda, quindi dove c'è Salò, poi si arriva direttamente a Riva del Garda con molta più facilità. Riva del Garda vuol dire Trentino, Trentino vuol dire ovviamente, vuol dire ovviamente l'Alpen Forland, perché poi, abbiamo solo citato rapidamente, ma la Repubblica Sociale è a sovranità territoriale limitata, perché i due miti fondativi del fascismo delle origini, anzi del prefascismo, cioè dell'interventismo, Trento e Trieste, sono controllati dai tedeschi. Già questo è un elemento che azzoppa molto il messaggio nazionalista di Mussolini Salodian. Quindi c'è questo. Poi c'è il fatto che lo si controlla molto meglio quando il paese è piccolino, quando alla fine a Garniano basta la presenza di un medico come Zaccarie, di un ambasciatore come Ran, che è una figura che non abbiamo citato ma che è importantissimo, questo sbevo intelligentissimo che di fatto gestisce, è il vero gaulaiter d'Italia, Rudolf Ran, bastano un paio di battaglioni di SS l'intorno e la situazione è sotto controllo. Milano è una città che pur avendo le cose che ferruccio io e so bocca e pesce abbiamo in qualche modo detto ambigua e pur sempre è una metropoli difficilmente controllabile, con fin troppe anime fasciste, troppe confusioni. Mussolini però contemporaneamente non ama Milano, volevo aggiungere questo particolare. Mussolini non ha amato più Milano al punto che sono, se non erro, nove anni che Mussolini non mette piede a Milano. La prima volta che ci mette piede è nel dicembre del 44. Quindi credo, il mio sospetto, che non volesse finire a Milano, non gli interessava tornare a Milano. aveva chiuso con Milano, mi verrebbe da dire, ma questo è a livello di psicologia del personaggio sul quale posso solo avere dei sospetti. Grazie. Certo, un attimo che gli arrivi al microfono. Nella storia di questi due anni che ha raccontato così bene, qual è il posto in generale, se c'è una storia parallelo, anche un posto in generale delle donne? Beh, allora, dunque, le donne hanno un posto specifico delle donne, non c'è ovviamente. Possiamo dire che abbiamo... Ci sono molte donne con Salò. Salò è la prima realtà militare che prevede un'unità militare in uniforme femminile, il servizio ausiliario femminile. A questo aderiscono molte ragazze. C'è anche poi tutta una componente militare e femminile anche in diverse altre unità. Esistono donne nella decima mass, nelle brigate nere, eccetera. C'è una... Dall'altra parte c'è una militanza femminile ben nota di donne nella resistenza, non soltanto portaordini, anche attive nei GAP, per esempio. Ecco, tutti pensano che le donne partigiane fossero tutte portaordini, non conoscero Sine. No, no. Le donne che hanno partecipato attivamente, una di loro partecipa all'attentato a Resega, per intenderci. C'è quindi quest'altra componente importante. Attenzione, è interessante notare come la violenza che cresce è sempre di più esponenziale, soprattutto la reazione fascista, sia tale per cui abbiamo prima, nel 1943, credo sì, dovrei guardare adesso, scusate se non ho proprio tutte le date in mano, in testa, ma nel 1943, Buffarini Guidi, ministro degli interni di Salò, ordina, nel caso di rappresario, di non toccare le donne. Nel 1944, verso la fine, nuovo ordine, si possono toccare le donne. Quindi diventano target, che peraltro sono già, perché poi le violenze carnali nei confronti delle donne che compie la banda Melli a San Vittore sono tale, per cui anche su intercessione di Schuster arriva lo stesso Sevecche per bloccare Melli e i suoi torturatori perché si stanno comportando con le detenute, con una violenza che può ben immaginare. Quindi c'è anche il tema della donna vittima, poi le donne sono tutte a casa, il più delle volte, a proteggere la propria famiglia. Io direi che quello, come possiamo trovare un luogo migliore se non quello che è stato immortalato nel 1955 nella ex piazza di Puglia di Gorla, che adesso è piazza Piccoli Martiri di Gorla, dove c'è una madre che ha in braccio il cadavere di un bambino. I 184 bambini di Gorla, vittime di una delle stragi più spaventose che la Seconda Guerra Mondiale abbia esercitato sui civili italiani, le madri di Gorla, credo c'era anche un'associazione di madri di Gorla, quando ero più io sono di Gorla, c'era un'associazione di madri di Gorla, direi che davvero quello è l'altro ruolo. E poi vabbè, sono le donne che hanno combinato il pranzo con la cena per 600 giorni, perché chiaramente non potevano farlo gli uomini perché o quando derivano alla resistenza e all'incrandestinità o ovviamente militavano nelle milizie fasciste o erano soprattutto prigionieri in Germania o erano semplicemente dispersi in Russia o morti. E quindi spesso erano famiglie con soltanto un genitore che era la signora, la mamma, la madre che doveva, la vedova o la moglie col marito disperso o lontano che doveva occuparsi di combinare il pranzo con la cena. In questo senso credo che un luogo specifico non c'era ma praticamente ogni abitazione di Milano aveva la donna protagonista ma non in senso di regina del focolare, direi regina della sopravvivenza. Altre domande? Prego. Sì, buonasera. Io sono la dottoranda con Unito e mi occupo di storia della pedagogia durante il fascismo. Mi è capitato nelle mie ricerche di imbattermi in storie di questi famosi piccoli carnefici che per esempio si accompagnavano con la Muti e che erano noti per la particolare crudeltà che esibivano. Mi chiedevo se anche a lei fosse capitato di incontrare queste figure proprio come il bambino fascista della notte di San Lorenzo. Sì, mi è capitato di incontrare qualcuna di queste figure. No, non tantissime, devo essere sincero. Cioè, attenzione, non risultano torturatori bambini. Diciamo che sì, a un certo punto si cominciano ad arvolare molto giovani, ragazzini. direi che poi c'era questa abitudine di creare le mascotte che fanno spesso una brutta fine nel 45 perché poi non mi risultano colpevoli di nulla se non di avere l'uniforme. Ma aggiungo una cosa, non ho riscontri. Va detto che la violenza che si stava esercitando in quei giorni era tale per cui più volte capita che ci sono bambini, bande di ragazzini sbandati che magari decidono di giocare a fare i fascisti e vengono arruolati da queste bande fasciste per appunto azioni di violenza particolare. Mi è capitato solo un episodio dove c'era appunto una vera e propria banda di delinquenti minorili che vengono arruolati dalla resega e li usano diciamo come unità di manovra per picchiare un po' di gente, per fare appunto un po' di violenza di questo tipo. Però torture specifiche non ho sentito, a meno non le ho incontrate, però non posso escluderli ovviamente. Visto i suoi studi, quello che ho capito che stai studiando, se non ho più domani, sento bisogno di riferirti al commento di una persona molto saggia, è stato partigiano, è stato un dirigente molto importante del Partito Comunista. Ricordo in una conversazione parlava di quel periodo che dice i più giovani erano i più cattivi da una parte e dall'altra. Questa cosa mi ha colpito, questa cosa che fece. Era un uomo molto saggio, Egli Oquercioli, molto intelligente, molto saggio, aveva il grande peso politico e questa osservazione che mi fece una volta, noi eravamo molto amici anche in una conversazione, mi colpì profondamente. Sì, questo però è vero. I giovani intendiamo però, perché pensavo sempre ai bambini, però siamo in un'età priado-sciziale. Sì, 15-16 anni, sì, era pieno di questi. Sì, dall'una e dall'altra parte avevano avuto perciò, ovviamente più sbagliato. Molto saggio. sicuramente diciamo che c'era una tendenza alla violenza. La violenza era talmente elevata che andando a sfogliare il Corriere della Sera si scopre che c'era una quantità di crimini a prescindere dagli scontri politici gigantesca. Tra l'altro sostanzialmente impossibile era reprimerli, perché le polizie si stavano occupando di ben altro. sì, certo, ogni tanto c'era veramente una situazione molto molto difficile, tant'è che poi personaggi come Commissario Nardone, il Ministro Romita con la sua volante, dovessero davvero fare miracoli per riuscire a ripristinare dopo la guerra un po' di ordine pubblico dal punto di vista proprio dell'ordine contro l'azione di criminali assolutamente apolitici. Bene, altre domande? Prego. Volevo chiederle una famosa Villa Triste. Sì, sì. Praticamente è la chiesa di San Siro. Cioè, dove avevano le torture? È proprio, era dentro, nei sotterranei della chiesa. Io ho visitato un po' di anni fa questa... Ma dove, scusi? La Villa Triste. Ah, sì, sì. La Villa Triste in realtà è la chiesa di San Siro. Sì, sì, sì. La chiesa di San Siro è rimasta all'abside, praticamente, la parte dove facevano le torture, è la parte interna, è praticamente dentro la chiesa, la parte, diciamo, anteriore della chiesa. Sì, sì, Villa Fossati, prima era stata un'antica villa, in realtà che prima di essere Villa Fossati aveva avuto appunto un convento, prima di essere un convento era la chiesa di San Siro e ci sono delle parti della villa e infatti sotto c'erano i... c'erano le camere di tortura di Pietro Cocchi e dei suoi collaboratori. Vorrei chiedere un'altra cosa. Lei, prima, quando aveva parlato del fascismo, ha fatto notare questa retorica di richiamarsi al risorgimento. Anche, diciamo, attualmente il governo Meloni e in realtà anche il discorso che ha fatto il Presidente del Senato si richiama al risorgimento. Possiamo trovare una certa persistenza di questo modello. Ma io non farei lo stesso paragone, diciamo, sono due cose un po' differenti, però non voglio entrare nella questione politica attuale. Il risorgimento è la base, diciamo, di tutta la nazione italiana, unitaria, pertanto è richiamato. Il fascismo la utilizza molto durante Salò perché, sì, ma in realtà il problema centrale è che gli serviva qualcosa che distinguesse il fascismo repubblicano dal fascismo alleato della monarchia. Quindi, di colpo, si diventa Mazziniani, si diventa Garibaldini, si tirano fuori i fratelli Bandiera, si tira fuori la Repubblica Romana. Il simbolo, cioè l'emblema della bandiera militare, della bandiera di guerra di Salò, tutti pensano che la bandiera di Salò sia quella con l'Aquila. In realtà la Repubblica Sociale Italiana aveva una bandiera bianca-rossa-verde come la nostra. Solo l'esercito, cioè le forze armate di Salò, avevano la bandiera di combattimento e aveva al centro, nella parte bianca, l'Aquila della Repubblica Romana. Attenzione, l'Aquila della Repubblica Romana aveva talvolta la squadra del compasso massonico, chiaramente vengono tolte queste due cose qua. C'è la stella sopra che viene tolta, al posto di quella viene messo un altro fascio. Ci sono delle modifiche sull'emblema, ma sostanzialmente è lo stesso simbolo della Repubblica Romana del 1849. Sono richiami a tutto ciò che c'era nella storia italiana precedente che rompessero con la monarchia, al punto tale che si richiamano persino alcune volte alla Repubblica Latina, quella precedente, diciamo, quella dopo i sette re e prima dell'impero. Quindi è sempre un legame, il legame repubblicano è fortissimo, ma non è una Repubblica democratica. È una Repubblica, ovviamente, che di Mazzini usa soltanto quello che gli serve, di Garibaldi pure, dei fratelli Bandiero, di Carlo Pisacane anche, cioè utilizza solo quegli elementi che possono distinguerlo da un passato imbarazzante con la monarchia, del quale non si parla più. Chiaramente il neofascismo ha sempre avuto più una simpatia verso questa forma di fascismo, l'ho detto anche all'inizio, che verso il ventennio. E quindi automaticamente la simpatia verso il risorgimento repubblicano è maggiore ed era maggiore sicuramente in una certa parte dell'estrema destra italiana rispetto al ventennio. Oggi non so più se poterli definire, mettere il suo stesso piano, sinceramente, credo che non sia proprio così, poiché quello parli di risorgimento. Se gli si toglie pure quello non parla più di niente, questo ci si pensa bene. Sulla resistenza può dire poco, sull'esorgimento pure, è impressionante più silenzioso della storia. Non sarebbe male. Vabbè, l'hai già letto. Ho una curiosità. Relativamente alla Repubblica Sociale, in particolare, non so se anche per i 600 giorni di Milano, comunque c'è successivamente, dopo il 45, sì, dopo il 45, con la liberazione, eccetera, c'è, da un punto di vista dello spettacolo, parecchie persone, parecchi personaggi, anche simpatici, che vengono fuori come partecipanti alla Repubblica Sociale e comunque a questo periodo di affondamento, cioè proprio di oscurantismo violento. Come si può inserire, come si può inserire nell'opinione pubblica, nel pensiero, di personaggi come Tognazzi, come Vianello, anche Dario Fo, come inserire, qual è la, se c'è una ragione, oppure, c'è, ci sono tante, Albertazzi diceva, Albertazzi diceva che lui aderì a Salò perché, invece di leggere Salvemini, quella parte di Generazione preferiva leggere Salgari. Allora, questa battuta di Albertazzi ci fa capire che in realtà a Salò innanzitutto non ci vanno solo i torturatori, non ci vanno soltanto, qui c'è Mazzantini che lo spiega, ci sono stati tanti che lo hanno spiegato, anche, diciamo, storici che poi si sono avvicinati alla sinistra e che hanno partecipato, però hanno partecipato a Salò, esponenti del mondo della cultura. A Salò sono andati in tanti, in troppi forse, sono andati i balilla che hanno creduto solo nel fascismo perché non c'era nient'altro in cui credere, perché l'antifascismo era un fenomeno molto limitato che non ne arrivava dappertutto. Il messaggio antifascista emerge dopo il 43, ma per molti anni la gente comune non aveva avuto altra educazione se non quella del ventennio. Il ventennio aveva prodotto una generazione che pensava di fare la cosa giusta aderendo a un onore d'Italia che riteneva essere l'unico disponibile. C'erano quelli che ci credevano veramente al fascismo e quelli che pensavano che questo nuovo fascismo fosse rivoluzionario sul segno anche in termini generazionali, quelli che leggevano Salgari invece di Salvemini. Questi qui in parte poi hanno mantenuto una loro coerenza fascista, in parte no, in parte hanno capito quando è stato possibile per loro comprendere. Io non li voglio giustificare per forza, ma attenzione non è un caso se molti di loro si sono poi collocati a sinistra e non l'hanno fatto tanto per opportunismo credo quanto per ragionamenti sensati. Poi certo ci sono stati anche quelli che hanno semplicemente detto e lo racconta Pavese lo ripete appunto Mazzantini ci voleva un nulla per finire dall'uno dall'altra parte cioè non era così semplice manicheo facile come lo possiamo avere oggi. Questo è non ci voleva un nulla quello che Calvino mette in bocca a Kim che è un straordinario romanzo che Calvino a 21 anni scrive non Pavese scusa Calvino Calvino scrive questo straordinario romanzo di Sentire dei Nidi di Ragno mette in bocca a Kim questa espressione che è l'uscita di bocca adesso cioè era un bastava un niente bastava un niente esattamente bastava un niente bastava il paese o dall'altra che ho sempre trovata quell'espressione di Calvino geniale la più geniale sì sì aveva partecipato a quelle vicende e che esprimeva proprio l'umore che si stava formando in quel momento ci si trova in un quartiero in un paese dove alla fine l'unico personaggio noto è un fascista che peraltro viene considerato un fascista per bene a torto ha ragione e questo comincia ad arruolare la gente e la gente ci va perché hai 18 anni e dici se no dove vado devo servire la mia cosa ti basta una chiacchierata con uno al bar e aderisci alla resistenza cioè l'elaborazione ideologica è qualcosa che può arrivare in momenti di serenità non in momenti di confusione come quelli in quei momenti bastava niente questo non assolve forse però spiega perché tanta gente perché parliamo di più di 700.000 fascisti in armi fascisti repubblicano sociali in armi chi più fascista chi meno chi ci credeva chi ci credeva di meno chi per opportunismo chi per fanatismo ma caspita non è poca roba e quindi è un fenomeno che è andato oltre per non parlare degli amministratori eccetera per cui secondo me le scelte sono anche spesso nate dalla casualità come dice il Tarotino io devo dirti Marco articolerei un attimo di più il ragionamento quanto riguarda la classe operaia io devo dire che sono metto assieme varie cose gli studi che tu conosci sicuramente di Ivano su come la classe operaia milanese resistiva più di resistiva al fascismo rappresentò un muro rispetto anche durante come il anche durante come ho detto non ho mica non è non penetra non penetra non penetra una classe opera milanese però è un po' interessantissimo Ivano ha fatto degli studi molto belli che mette risalto questa cosa qui e poi collego questa cosa a un punto che tu hai accennato importante il marzo del 44 è stata la più straordinaria mobilitazione che ci sia stata in tutta Europa occupata e quindi è la classe operaia milanese che mantiene in qualche modo rispetto al resto questo è un po' l'idea che mi oserei avanzare però tutta cercare da parte è quella che quel pezzo di società che mantiene prima la classe operaia socialista come spiega molto bene Ivano poi socialcomunista che mantiene una refrattarietà di tutta la fascistica ed è quella più pronta nel suo insieme a partecipare anche una parte cattolica c'è anche una parte cattolica anche se non per i cattolici questo sono molto influenzato dagli studi di Ivano ha dato questo quadro così compatto della classe operaia che rappresenta l'unico pezzo di Milano che nel quale i fascismo non penetra non penetra e così penso ci posso collegare anche ci mettere un po' di piccola borghesia di piccola borghesia un po' quelli che fanno fatica ad arrivare a fine giornata che sono arrabbiati se non per motivi ideologici per motivi pratici con la situazione che dicevo prima però sicuramente la classe operaia è sempre stata a refrattare al fascismo quanto fosse favorevole alla rivoluzione sociale questo è un altro discorso o favorevole al partito comunista o socialista in quanto tale ma sicuramente il fascismo non l'aveva mai accettato questo mi ha molto colpito perché ha fatto molto accurati i studi di Bano su questo e devo dire mi hanno molto portato dentro questa interpretazione che avevo poi avuto il piacere anche riconoscere alcuni degli operai che avevano organizzato il ciò per il 44 è un'esperienza po' insomma poi era semplicissimo che avevano però costruito il tessuto capillare più semplice nelle case di ringhiera che rendeva possibile poi realizzare questa cosa devo dire sono state esperienze anche nella mia formazione molto forti mi hanno molto colpito queste vicende niente sono altri interventi io vorrei ringraziare di cuore però è Marco bravissimo grazie 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 a voi grazie